Un petruzzelli diverso per una storia stavolta davvero diversa. Non c'è la platea, solo il palco e il pubblico fa parte della scenografia, tanto da entrare in scena alla fine, per mangiare. Perché la cena armena, lo spettacolo di Paola Ponti rappresentato in prima nazionale del Politeama barese, è una storia della cultura attraverso la cucina. Una cultura, quella armena, polverizzata da un genocidio, perpetrato dai turchi tra il 1915 e il 1923, per lungo tempo seppellito dalla storia e da un oblio che il regista Danilo Nigrelli cerca di rappresentare nel duetto tra una ragazzina e la sua maestra, entrambe lontane discendenti di armeni fuggiti dallo sterminio. Sopra l'Azerbaijan e la Georgia. Sotto. Ma non ce l'hai una cartina? Impacchettata. Allora sotto. Adesso prima. 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 Sotto confinava con l'Iran, l'Iraq. Persia. Prima si chiamava Persia, non Iran. Ma è uguale, no? Non è uguale per niente. Un confronto generazionale che in fondo fa capire, semplicemente, che conoscere significa sapere, comprendere e metabolizzare. Perché tutti gli armeni, e lo dicono i nipoti dei sopravvissuti, vorrebbero solo che i loro figli abbracciassero i figli dei turchi di oggi. Sottotitoli